Ricordate il mio grosso, grasso matrimonio greco? La filmauro presenta una storia d'amore un po' diversa. Con notazza. Che direbbero mamma e papà se gli dicessi che sono... Mi fareste morire. Diglielo, ti prego. Una tipica famiglia italiana in America deve affrontare una situazione insolita. Ma perché preferisci vivere con Nino, anziché con me, con tua magia e tua sorella? Perché? Perché Nino è il mio amante. Possiamo tornare indietro se vuoi? No, mi piace la morire. Essere gay e italiano non lo augurerei al mio peggiore nemico. Stai dicendo che il mio Nino si ficca di il vostro angelo? No, sto dicendo che è al contrario. Nino, sono Anna, mia madre l'ha appena detta tua madre e scappa. Cos'è entrata? La porta era chiusa a chiave, c'era l'alarma inserita. Nino, sono siciliano. Anna, mi dispiace tanto. E perché? Io sono elettrizzata, siete una doppia e viva. Pina. Ma come vi conoscete? Cos'è questa storia? Sì, cos'è? Ne parliamo in un altro momento. E perché? Quello che è successo in macchina era tutta una finta. Cos'è successo in macchina? Abbiamo fatto l'amore. Sì! Mambo italiano. Quando il destino fa incontrare due persone giuste, l'amore trionfa. Io spero solo che si trova una brava ragazza italiana. Ma non la vuole una brava ragazza italiana, è gay. Nessuno è più gay di mio figlio. Mambo italiano. Un amore tutto da ridere. Dal 6 agosto in anteprima estiva. Dal 20 agosto in tutti i cinema. Un amore tutto da ridere.